Sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per otto mesi per due dipendenti del comune di Sant'Agata di Militello, marito e moglie. Il provvedimento cautelare messo dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica scaturisce dagli esiti di una complessa attività di indagine sviluppata tra il settembre e il novembre 2018 dalla locale stazione Carabinieri di Sant'Agata di Militello. Attraverso videoriprese effettuate in prossimità degli ingressi alle diverse sedi del comune, servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Le indagini hanno consentito di documentare una quotidiana abitudine degli indagati ad allontanarsi fraudolentemente dai rispettivi uffici per sbrigare faccende personali provocando così evidenti disservizi all'utenza e recando grave danno all'immagine alle casse dell'ente comunale. Nel dettaglio i due conugi avrebbero gestito a loro piacimento gli orari di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro timbrando i badge in assenza dell'uno o dell'altro. Il badge veniva timbrato a orari arbitrarie anche se l'uomo e la donna uscivano da lavoro molto prima. Nei casi più evidenti i due dipendenti pubblici pur risultando in servizio andavano al mercato settimanale a fare la spesa oppure al bar a far colazione. Nel corso dell'interrogatorio preventivo i due indagati si sono limitati a riferire genericamente di non ricordare nel dettaglio i singoli episodi in contestazione e di aver agito ritenendo di non commettere una condotta penalmente rilevante assumendo a loro discolpe il fatto di non essere mai stati né controllati né richiamati da nessuno. In circa due mesi di osservazione sono stati ricostruiti numerosi episodi di illegittimo e ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro posti in essere non solo dai due indagati nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza interdittiva ma anche nei confronti di altri dipendenti comunali le cui posizioni sono al vaio degli inquirenti. I reati contestati sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato e di fraudolenta attestazione nella presenza in servizio reato che comporta tra l'altro il licenziamento per giusta causa per i responsabili delle condotte assenteistiche.